Prima esercitazione coi ragazzi della scuola Madonna Assunta di Bagnoli per mettere alla prova le procedure di evacuazione previste in caso di eventi critici collegati al bradisismo. A seguito di un allarme simulato, studenti e lavoratori della scuola hanno raggiunto il punto di raccolta indicato dal piano d'emergenza dell'istituto. Sono state quindi effettuate le verifiche tecniche sull'edificio prima di consentire il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. A fine maggio è programmato un nuovo test mentre ad ottobre sarà sperimentata l'esercitazione per il rischio vulcanico nell'ambito del piano nazionale Campi Flegrei.